Ma benvenuti signore e signori, ecco a voi la top ten degli stereotipi sul liceo dell'età. Sono tutti verissimi. Numero uno, i criteri di selezione sono rigidissimi. Decisamente sì. Va beh. Ni. Ding. Ding. Numero due, al di lei danno tutti gli attacchi di panico. Numero tre, il de l'età è una scuola noiosa. Ding. 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 Numero 4 Aldelida e i prof sono cattivissimi Scusi ma invece volevo chiederle Per quanto riguarda la carbonara Si usa la pancetta o il guanciale? Cosa? D'accordo, d'accordo Sono calmo sto bene Numero 5 Aldelida non ci sono maschi Prof possiamo andare in bagno? Vediamo che ci piace il naso Ma certo mia cara Numero 6 Aldelida si viaggia e basta Prof oggi possiamo fare lezioni Quando mi date un po' di tempo Ah vabbè però insomma Mi c'è male qua La cosa Ma lo compro no? Barbeci! Numero 7 Aldelida se la tirano Mi dice qualcosa Sul Deledda? Talented, brilliant, incredible, amazing Showstopping, spectacular Never the same Totally unique Completely not ever been done before Unafraid to reference or not reference Put it in a blender Shit on it Vomit on it Eat it Give birth to it He's all those things Numero 8 Aldelida È una scuola competitiva Allora 7 Oh no Come here Sì Vomit on it 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 Numero 9. Il Diledda ti rovina la vita sociale. Numero 10. 9. Sono 9. E' tutto signori e signori. Alla prossima.